Non si era vaccinato per dei dubbi sul vaccino sperimentale, viste alcune patologie pregresse e una visita oncologica che avrebbe dovuto fare a breve. Gianni Santini, 55 anni, di Monte Urano, attendeva quindi il parere di un medico e di capire se avesse dovuto sottoporsi alla chemio, la quale, a sua volta, sarebbe potuta andare in contrasto con il vaccino anti-covid. Però non ha fatto in tempo, perché il 2 settembre scorso è risultato positivo al virus e mentre era a casa, in isolamento, le sue condizioni si sono aggravate. Ha chiamato l'ambulanza ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo, dove lo hanno tenuto in osservazione per due giorni. Dopodiché lo hanno spostato in reparto ed è stata eseguita un'attacca, ma per Gianni era già troppo tardi, si era perso tempo prezioso, è stato intubato per quattro giorni ed è uscito dal nosocomio il 2 ottobre. Ecco, e dopo un mese di ospedale che cosa le è rimasto? Che cosa ha capito? Ho capito che i miei dubbi di non fare il vaccino sono stati confermati. Secondo me abbiamo spinto troppo in questa direzione e poco sulle cure alternative. Non è vero che siamo all'80% dei vaccinati, ma con quelli che si sono ammalati e quelli asintomatici si parla che siamo oltre il 90%. E quelle parla per esperienza personale, ma anche familiare, così? Sì, mia mamma ha avuto due reazioni avversa, una alla prima dose, una leggera malesseri tipici della prima dose e nella seconda una paresi sull'articolazione della bocca sinistra. I medici non hanno registrato come reazione avversa, ma hanno accusato un problema dentale. Dopo una serie di giri tra i vari dentisti, praticamente uno dei luminari del settore che vive nell'Anconetano e opera nell'Anconetano ha riscontrato invece che era un blocco e una paresi della mascella sinistra. E ancora oggi, prosegue Gianni, a distanza di quasi quattro mesi dalla seconda dose, mia mamma continua ad avere problemi e i dottori stanno intervenendo con un bite e gli antidolorifici. Io, ha poi precisato il 55enne, non sono un no-vax. Infatti, così come i suoi sette figli, ha ricevuto tutti i vaccini obbligatori e sperimentati. Nel febbraio del prossimo anno scadrà il suo green pass e poi che cosa farà? C'è un'intervista di Galli di due giorni fa che dice che praticamente è sconsigliato fare il vaccino a chi già ha avuto il virus. Continuerò, se c'è ancora il green pass, con i tamponi. Assolutamente non ho intenzione di… affinché resta sperimentale. Quando sarà medicina ufficiale, quando ci diranno… ma credo che per febbraio questo problema non esisterà più perché sto vedendo che stanno approvando un sacco di terapie nuove e siamo in attesa soprattutto del medicinale che è in terza fase negli Stati Uniti, credo che sia in azienda canadese. E questo è molto importante perché è un antivirale specifico per il Covid che permetterebbe anche di quantificare la carica batterica sui vari soggetti e quindi bilanciare i medicinali in base alla carica batterica. In ogni caso il 55enne ci fa sapere che l'azienda per la quale lavora, l'Applight di Montegiorgio, aiuterà i dipendenti che non hanno il green pass, tant'è che hanno già acquistato un pacchetto di 300 tamponi mettendoli a disposizione dei lavoratori non vaccinati ad un prezzo ridotto della metà rispetto a quello di mercato. Praticamente un anno prima che iniziasse il Covid, In gennaio 2019 sono stato contagiato da un virus simile a questo, quindi polmonite bilaterale intestziale, curata come si sta curando adesso il Covid, cioè eparina, cortisone, paracetamolo, antibiotici eccetera, e è durato un mese, non sono finito in terapia intensiva perché le cure comunque a casa hanno funzionato. E qual è il messaggio che oggi vuole lanciare i cittadini? Voglio lanciare un messaggio di speranza perché 4 milioni e 900 mila italiani sono già guariti dal Covid e sono immuni, e quindi di prendere per tempo la situazione, di non aspettare troppo a scoprire se è un'influenza o se è il Covid e iniziare subito le cure, è una questione di tempo, cioè se la mia situazione fosse stata gestita invece di due giorni in pronto soccorso, ma subito in reparto, subito all'attacca, probabilmente non finivo in terapia intensiva. Grazie. Grazie.